Ho ragione, Don Pier. Ha visto i poveri? Ognuno ha sospettato. Perché le canne si mangiano fra di loro se non c'è questo bastone? Con Angelino e Sabine si occupavano delle bestie. Io non sono stata. Tu metti per me la fila, io mi sono fidata. Già Teresa è il figlio di Valdetta. Hai chiamato la pannazza di questa cosa. Amato Angelino e Sabine. Oggi per me. Se questa è un'alleanza non potremmo permettere che qualcuno nascita una nuova e poi andiamo tutto con me prima. Ti hai fatto accedere con Manu Cano, non è merda. Grazie per me! Voi vrei! Voi vrei! Voi vrei! E' tutta la vasu! Gomorra. Astazi. De la ora 10. In Club 22. Numai la Canal D2.